Tutto quello che mi succede. Da che cosa è messo in moto tutto quello che mi succede? Commento. È messo in moto dalle esigenze della tua coscienza, la quale a sua volta è messa in moto dall'esigenza di costituire se stessa. Costituzione che è messa in moto dall'esigenza di ricongiungersi con la scintilla divina. Il ricongiungersi con la scintilla divina è richiamato da quelli che i maestri immateriali del cerchio Ifior chiamano archetipi permanenti. Gli archetipi permanenti sono messi in moto dalla vibrazione prima che scaturisce dall'assoluto.